Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la regina dei rally Lanciastratos HF Livrea Alitalia numero 10 sulle portiere sul cofano, vincitrice del rally di Monte Carlo del 1976 con il pilota Sandro Munari soprannominato Il Drago e il suo copilota navigatore Silvio Maiga, il modello in scala 1 a 8, l'edizione Centauria e l'uscita è la numero 77. Prima di procedere a farvi vedere quello che ho ricevuto in questa nuova uscita, volevo soltanto informarvi, molti di voi già lo sanno, che Centauria ad agosto metterà a disposizione la Ferrari 330 P4. Andate a vederla perché non è tra le più belle Ferrari, forse è proprio la più bella Ferrari, quindi decidete se farla piuttosto che non farla. Il prezzo, io ho dato un'occhiata e dovrebbe essere 11,99 euro a fascicolo, 110 uscite e se si fa invece l'abbonamento per le prime otto uscite c'è uno sconto particolare. Vi danno poi, se invece sottoscrivete anche l'abbonamento premium, dove prevede una base con una teca, anche una tazza, ma insomma di tazze certamente in casa non ce ne mancano. Fatemi sapere nei commenti se siete anche voi interessati a farla. Io credo che la farò se non mi ricoverano prima perché ero già contento che mi finiva la Citroen 2 cavalli Charles, sto ancora a tre consegne, ho detto così respiro un po' e invece l'ammazzata, arriva questa altra bellissima notizia. Poi comunque vi metterò il link in descrizione. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi, alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiate piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli, non solo auto e infine se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello mi può contattare privatamente, grazie. Peccato, queste sono le due mezze pagine, l'ho detto più di una volta e altre volte lo dirò, che Centauri ha scelto di dedicare a questa icona meravigliosa automobilistica. All'interno troviamo l'altra portiera, lato navigatore e una riproposizione di quella che abbiamo appena terminato, questa. Ho deciso comunque di fare il video per mantenere l'ordine delle uscite. All'interno troviamo le due viti TP, o meglio tre viti, una è data in più. Io sono andato già ad avvitarmele qui. Due cerniere in metallo. Vi ricordo che la parte che non è smussata, vedete, qui abbiamo, vi faccio vedere, qui abbiamo una parte che è stondata e l'altra parte invece che è a spigolo, ok? Bene, la parte con lo spigolo va messa verso l'interno e la mettiamo in questa maniera qui. La parte con lo spigolo va messa verso le indire, quindi provaverà il lato più e la parte con lo spigolo qui è chiedere. Vedi, la parte con lo spigolo è un problema più efficace. Mi raccomando non cercate di rendere più morbide le cerniere mettendoci del lubrificante facendolo muovere su e giù, assolutamente devono essere rigide così dove metterete la portiera quando andrete a chiuderla, lei non avrà quel ritorno fastidioso che non ve la farà rimanere perfettamente imbattuta contro la carrozzeria, mi raccomando. Ecco qui, non c'è più nulla da fare dobbiamo aspettare le altre uscite ma lo sappiamo il prezzo è quello, le uscite sono 110 come vi ho già detto all'inizio e come sapete quindi armiamoci di pazienza, nessun problema, io sono felicissimo di questo modello, tanti di voi lo stanno rendendo ancora più simile al vero, fatemi vedere qualche foto perché sono cose sempre molto piacevoli, ricordatevi di conservarvi i copri ruota, ne abbiamo solo due, quelli anteriori mancano, ci verranno dati in corso d'opera perché rischiate di perdere, li mettetevi alla fine, questo vi consiglio, ecco qua, come potete vedere si vede il riflesso perché io sono andato a lucidarmela. non vi consiglio di farlo se non siete un po' capaci perché rischiate di portare via i colori, non il bianco ma i colori delle decalcomanie, quindi ecco per questo motivo non vi faccio vedere come ho fatto, dovete avere una mano leggerissima altrimenti create più danno di quello che in realtà vorrete andare a sanare, che poi danno non è perché è bello lo stesso. copri gruppo fari secondari, sarà poi tenuto fermo da quattro elastici, questi ganci metallici, è bellissima, funzioneranno sia il gruppo fari primario, il gruppo fari secondario, il clacson, l'accensione del motore e addirittura l'inserimento di tutte le marce con le relative accelerazioni per ogni marcia. bellissime, io che quando ero piccino le sentivo girare in Val d'Aosta, vi posso garantire che il suono meraviglioso del 6 cilindri del motore Dino Ferrari è quello, 1.16 in data è quello, bellissimo. Dopo il numero 80 dovrebbe essere l'81, l'82 adesso non ricordo, dovremmo ricevere la carrozzeria esterna, però potrete trovare tutto nell'opera insomma, nelle uscite andate a vederlo. il cruscotto è retroilluminato, bellissima, bellissima, bellissima. Bene ragazzi, andiamo solo a vedere una cosa. in questi modelli dovete fare molto attenzione alla finitura delle vernici, il problema maggiore lo trovate lì, quindi controllate bene tutto, tutto deve essere perfettamente liscio, se trovate qualche imperfezione vi fate sostituire il pezzo perché ne avete diritto, i nostri soldi non sono fallati e non dobbiamo ricevere i pezzi fallati, o meglio non dobbiamo accettarli perché purtroppo li riceviamo. Non esiste un controllo qualità e questo accade in tutte le aziende. Ecco poi la difficoltà diciamo sarà quella probabilmente di registrare tutto affinché le linee corrispondano perfettamente senza falsi piani, altrimenti sono veramente brutte da vedere le chiusure. Bellissima. Io vi ringrazio del vostro tempo, un saluto e un abbraccio, un saluto anche a tutti i vostri cari e più cari, ci vediamo al prossimo video, se avete piacere andate anche a vedere il video dell'Audi 4, vincitrice del Reli di Monte Carlo del 1984 col pilota Walter Rohr e il suo copilota navigatore Christian, anche quello è un modello in scala 1 a 8, sono previste 120 uscite anche lì e potrete trovare sul canale l'uscita numero 27, l'ultima. Ciao a tutti e grazie sempre del vostro tempo.